Aureka, tu vivi in Italia da quanto? 23 anni E qui in questo momento hai accompagnato qualcuno? Sì, ma sono arrivata mia nipote con i suoi figli La mamma non siamo riusciti a fare venire Però io sono di Micolae La città che sta a combattere 23 giorni Praticamente che non fanno entrare La situazione è grave Perché stanno sparando praticamente Sicuramente le case civili Che non toccano niente Non c'è più l'ospedale Non c'è più le strutture, diciamo, delle fabbriche E Piscara è una delle mete preferite Dai cittadini ucraini in fuga dalla guerra Ogni giorno in città arrivano in media 100 persone E sono 1.100 i profughi Dall'inizio dell'emergenza ad oggi L'assessore alla protezione civile Eugenio Seccia Che abbiamo incontrato nella sede di Porta Nuova Anticipa che si sta lavorando per trovare Altri luoghi per l'accoglienza Oltre a quello già esistente Si sta diffondendo la notizia che Pescara funziona E quindi sono invogliati a venire a Pescara anche altre persone Ecco, per non far trovare, diciamo, intasata Pescara da problematiche amministrative e quant'altro Ci stiamo muovendo anche per trovare degli spazi Che possono essere come questo di Porta Nuova Che potrebbero diventare non più sufficienti Per la massa di persone che arrivano dall'Ucraina Allora ci siamo mossi, mi sono mossi Ci siamo mossi come amministrazione comunale Con Lidl Italia E giovedì mattina abbiamo un primo sorvore a luogo Con l'ex supermercato che si trova a Trassandonato Quindi all'incrocio tra Strada con l'Erenazzo e Via Tirina Dove c'è un locale molto grande Circa mille metri, forse anche più, dismesso di Lidl La quale verbalmente ci ha dato la disponibilità Fino a luglio gratuitamente Inoltre c'è anche un hotel che potrebbe essere disponibile In quel caso quanti posti sarebbero a disposizione Proprio per l'accoglienza? Sono 54 stanze 54 stanze che sono però di fatto dei mini appartamenti Che quindi arrivano anche 5-6 ospiti per mini appartamento Quindi sono diversi centinaia le potenziali persone che potrebbero essere accolte Comprese le famiglie ovviamente in questa struttura Subordinatamente a queste verifiche Perché stiamo interloquendo con il curatore fallimentare di una procedura Il quale ha già dato l'assenso di massima subordinatamente all'inventario Che viene fatto di rito in queste procedure Stiamo interloquendo ma non ancora lo facciamo in maniera compiuta Con il proprietario Qualora ci dovesse essere l'assenso anche del proprietario Ovviamente si metterebbe in campo Tramite qui ovviamente il suo eccellenza il prefetto Che ovviamente riescerebbe a gestire in maniera da rete Gli altri interlocutori per poter accogliere queste persone Intanto nel centro di Pescara Porta Nuova Continuano ad arrivare i profughi per i tamponi E il riconoscimento con loro Storie di guerra ma anche di tanta solidarietà La comunità ucraina ringrazia i cittadini abruzzesi Per il loro grande cuore Cuore che gli ucraini arrivati in Italia per suggerire le bombe Hanno comunque lasciato nel proprio paese Tu sei di Pescara? Sì sono di Pescara E perché sei qui? Perché sono venuti i miei parenti Che mia moglie è ucrania Sta qui con me Sono venuti i miei parenti dall'Ucrania Che sono fuggiti dalla guerra e da tutto quello che sappiamo Qui abbiamo? La figlia di mia cognata Che si chiama? Che ti be' ha avuto? Nostra Anastasia 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 parla italiano Un po' Come ti trovi qui? Che ti be' ha di là? Bene Stai bene? Sì Chi hai lasciato in Ucraina? Il padre, il marito Praticamente sono rimasti lì a combattere Sì Quindi una bella storia quella tua di accoglienza Speriamo bene dai Speriamo bene dai